pronti allora va da sé che nella cosa che è stampata ci sono tutte le correzioni di forma quindi primo step ma tutte le ricordi io me le ricordo però capito ci sono tutte le correzioni di forma che dovete fare quindi tanto alla fine allora il concetto è questo questa cosa qua è importante iniziate a impostarvi io direi partendo da quella presentazione lì iniziate a sistemarvi la presentazione come se fosse quella definitiva piuttosto lasciate delle pagine vuote perché così a giugno o maggio basta inserire non avete tutte le volte da rifare la presentazione ok questo implica che dovete iniziare a utilizzare gli stili di paragrafo in maniera decente gli stili di carattere in maniera decente si lo so sono ripetitivo però non lo fate quindi ok allora qui va beh il key allora qui a livello di di key concept può anche andare bene secondo me la cosa che funzionerebbe meglio per voi è andarvi a recuperare da internet quelle immagini punto ambigua quella del calice per far capire proprio guarda partiamo da quella cosa lì c'è da quell'immagine ambigua e l'abbiamo combinata con invece che il calice l'idea tipo del proiettore cinematografico una roba del genere però per il resto ok costruzione si dai ok quella lì sicuramente c'è da sistemare un po' l'impaginazione ma direi che ci siamo qui magari eviterei questi cosa si chiama io lo chiamo effetto beach piccolo grande esatto va bene così come anche vedi si che è abbastanza fastidioso ok quindi sempre marchio nella stessa posizione ma faccio metterlo faccio le fai copy ma no cioè allora nel sistema è uno fai copy in colla allora su questo lettore è command f invece su in design è command shift f command shift v ok ok qui è un po' a cazzo proprio in francese l'impaginazione ah l'ho cacciata lì in mezzo però tenete sempre da conto che lì c'è la riga qui c'è come una riga immaginare qui non mi sembra abbiate barato con l'impaginazione loro chiedono l'altra visione nel senso che se metti l'altra visione ti viene fuori l'accento cioè l'accento l'apostrofo e l'apostrofo ti sminchia secondo me un po' l'impaginato poi giustamente Brighetti vi dice potreste metterlo dall'altra parte sapete io come la penso a me piace un po' alla fine vedete voi ok ma se gli do due proposte non ti complicherei la vita eviterai di complicarti la vita qui stessa roba cioè evitate cioè è vero che qui c'è anche la costruzione però vedi cioè mantenere sempre un'impaginato qui poi attenzione ragazzi all'oror vacui cosa l'oror vacui è la paura del vuoto questa è una cosa che i grafici ne ho affitti come voi hanno cioè devo per forza riempire tutto piccolo piccolo e bello fine ok dimensioni spaggativissime ti dico fatta caso ok quindi po 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 niente comunque qui vabbè sapete più o meno su cosa dovete lavorare qui secondo me non è un nero non so perché non avete usato lo stesso nero qui il negativo io non ho capito perché voi fate fatica a capire il concetto del negativo cosa sbaglia il vuoto avete fatto un negativo che non è un negativo vedete che si è persa la cornice ok quindi cornice bianca e faccia nera esatto il negativo inverte i colori sostanzialmente va bene cosa dobbiamo cambiare si dicevamo con brighetti anche con la la marte di appunto puntare cioè quel grigio questo grigio questo giallo sono appunto un grigio un giallo senape non è il grigio argento è l'oro argento è l'oro secondo me è puttana staccia era più carino però è tantone quindi invece che il pantone dell'argento e dell'oro scegliete ma lo vuole più chiaro o c'ha più semplice no no allora allora l'oro il colore sembra di aver capito che gli piaccia così è che noi quello lì lo interpretiamo come un oro e un argento quindi quando lo si andrà a stampare diventa iridescente invece loro dicono no buono l'oro e l'argento cioè inteso come oro e grigio ok quindi lo teniamo così occhio che perché veramente secondo me state usando due neri diversi che mi sai sì perché sul marchio ho usato il pantone invece sul però non conviene che usiate dei neri così simili o sceglietene uno o lo usate no dico sul marchio ho usato il pantone sulla scritta ho usato il nero normale quindi magari è per quello che lo vedi diverso allora se scegliete un pantone lo usate ma si può usare il pantone anche sulla scritta sì sì assolutamente anzi bisogno riducibilità ok secondo me con le proporzioni che avete potete permettervi di usare altra visione anche qua cioè non è detto che per forza devo eliminarlo a un certo punto cioè se avete trovato le proporzioni giuste potrebbe essere che questo negativo è corretto ok scala di grigio c'è sempre dal discorso qua qui cosa è successo non lo so che non si vede il nome sì per esempio negativo sminchiato e come dovrei farlo come l'avete fatto qua quindi eh ma sei a scala di grigio ah il bianco al posto del nero esatto il nero al posto del bianco esattamente ok qui c'è un po' di svinchio però vabbè quindi di conseguenza dovrete sistemarvi un po' tutte le cose una volta che avete sistemato le cose prima quindi mi raccomando questa cosa qui deve essere fatta bene impaginata a regola d'arte e qui arriviamo al vostro key concept che è piaciuto per pura fortuna eh sì oh cavolo ehm eh conosco il server ok io ce l'ho io ce l'ho eh 192.163 192.168.5.33 va? ok è andato a caso però vabbè ehm occhio qua agli effettini che c'erano caricati all'ombra sì quindi eliminate quegli effettini che che non vi tornano allora io non so perché loro ma loro non il grigio non è perché lo richiamano argento ah te dici questa cosa qua in realtà in effetti potreste anche farne meno cioè non so quanto che sei bianco mica sto scritto nessuna parte perché la carta intestata devo stamparla dietro puoi farne meno tranquillamente piuttosto mi viene da dire se quello valutatolo un po' se non vi conviene trovare il modo di sfruttare il pattern quindi un po' ovunque ovvio che ovvio che dovete stare attenti a come lo usate cioè è ovvio che se lo usi appunto una roba così non so una cornicetta una cornicetta eviterei ma anche cioè valutate poi magari fa schif però non so potrebbe anche essere semplicemente un taglio a 45 gradi qua un angoletto e basta capito cioè non c'è bisogno di fare una roba e poi bisogna vedere se funziona perché magari fa cacare cioè qui il consiglio di Piero costarci nel senso che lui diceva che di metterlo in basso per evitare che appunto rompa le balle in mezzo all'impaginato in effetti questa cosa qua si può fare ok la si è già fatta l'ho già fatta anch'io quindi ricordatelo l'unica cosa bisogna se vogliamo metterla qui bisogna gestirsi meglio la colonna bisogna fare in modo che la colonna sia più stretta se non riesco a farla più stretta allora spostiamo in basso così non sta in mezzo in marrone ok occhio qua che c'è uno sminchio di impaginamento generale ok quindi vedi qua che c'è tutta questa schifezza va bene occhio che qui sono saltate le misure occhio che qui state cambiando continuazione font e lì io non ho carico un cassa e probabilmente non ti sei caricato il font e non hai caricato una cassa questa roba qui vedete ci sono degli sminchi che vanno sistemati va bene questo è da correggere è da correggere di conseguenza ovviamente e diventa superfluo nel senso che cioè se non fate il dietro non vi serve vi basta il complessivo alla fine ok foglie a seguire va bene l'importante che sia uguale alla carta intestata biglietto da visita a questo punto farei almeno dei grigi ok occhio vedi quale misura vedi quale impaginazione è una sminchiata ok sì io direi che poi una volta passati in positivo appunto studiatevi bene l'impaginazione cioè quando è così minimale la cosa occhio che vivete di dettagli quindi l'impaginazione è molto precisa molto molto deve essere una cosa molto elegante ok anche qui l'interno grigio diventa superfluo direi quindi è sufficiente una cosa così qui non so questa è la busta che va bene occhio all'impaginazione della busta questo ah è l'adesivo è l'adesivo ecco questo in questo caso mi viene da dire sfruttatelo il pattern cioè cercate di ottenere e ricordatevi che qui c'è il sottotitolo abbiamo reciclato la grafica di gozi l'hanno fatto tutti eh infatti insultato tutti dal primo al lundio a parte che è sortissimo il primo si l'impaginazione è una cosa vorrei infilarmi le dita negli occhi ok questa cosa qui del QR code è una roba che ho messo io a caso per dire boh ho questo spazio lo voglio usare come uno spazio di comunicazione quindi ci metto il QR code perché c'è un'arte che fa la video recensione del film una picchiata che mi sono inventato io capito cioè potrebbe essere dovete capire se vi piace l'idea attenzione che se poi mi dite confermiamo l'idea poi me la dovete giustificare dall'inizio alla fine ok capito qui per esempio potrebbe essere il caso in cui sfruttate il pattern perché è un biglietto di ingresso in cui magari insomma sfrutto l'idea di dire boh facciamo anche una cosa un po' decorativa ok quindi se ci sta che nella parte istituzionale l'immagine coordinata magari vedete se volete usare tipo l'angolino da 45 gradi che è può starci che magari è una cosa sobra se non ci sta ne facciamo meno qui invece dove la mogulistica inizia a essere una cosa anche un po' proprio un po' di comunicazione sfruttate va bene stessa stessa cosa la member card perché anche loro chiedono una cosa con un po' più di appeal giusto per capirci andiamo qua o page ma dice immagine no card ovviamente cioè tutti aspetta come è che si chiamano promo card no card eccole qui cioè vedete che spesso volentieri queste cose hanno comunque un elemento decorativo sfruttando alcuni elementi insomma per esempio qui in questo caso potete sfruttare molto il pattern voi perché appunto ottenete una cosa un po' più decorativa insomma qui si inizia ad andare su una cosa in cui potete stando dentro le vostre regole potete sbisarirvi un po' quindi sbisaretevi va bene torniamo a una presentazione questo è il complessivo in conseguenza qui allora prima di tutto questo qua vola abbiamo la sportina volante che vabbè che vabbè allora qui c'è allora qui c'è uno screenshot gozi dai l'ammazzo allora qui c'è un problema il primo problema vabbè la cosa che da guardare è un po' bruttina più che altro è molto brutto il fatto che ci sia una spilla scaricata bruttamente da internet alla sportina che tra l'altro si brucia ma al di là di questo il gadget voi dovete ricordarvi che quando fate vedere qualcosa voi lo state raccontando tu provi a immaginare ti sto raccontando una storia e ti racconto subito alla fine si rovina la storia giusto? si chiama spoiler allora qui quando si parla del gadget all'inizio se vi ricordate c'era il concetto del gadget idea dove per gadget idea magari fare qualche immagine ma che non anticipa il risultato finale oppure parole il mio gadget sarà per esempio voi avete da raccontare molto bene perché la spilla la spilla perché sono citazioni di registi ok fatti così cosa dopo torneremo indietro per definire meglio il key concept perché il key concept per quanto mi riguarda funziona bene cioè l'avete definito bene sulla sportina sugli altri avete un po' terriato un po' a destra un po' a sinistra anche qui la spilletta spreca un attimo di tempo a far capire non so se dirlo qui o dirlo qui dire guarda che ci sono tante spillette con tante citazioni va bene come diremmo a Will questo va bene come citazione tu leggi la Bibbia e Brett occhio alle citazioni in fase di presentazione troppo crude tipo Will aveva scritto mi piace come muore giovane è un po' pesantino poi è vero che magari la vendi perché effettivamente Quentin Tarantino ha queste frasi forti però un conto è produrle un conto è metterle in presentazione ok io ne avevo un'altra cosa ci fa con il negro sul ronzino è simpatica se uno conosce il film ci ride anche sopra ma da scrivere in presentazione cosa ci fa con il negro sul ronzino è un po' pesantina quindi leggere il Bibbia e Brett va bene occhio a selezionare le altre biglietto d'auguri ok ho già capito bocciato da tutti voi proprio avete fatto tipo il vostro è proprio immorale nel senso che vabbè occhio che avete applicato per esempio anche tutte le ombrettine che servivano per queste cose qua un po' tutto primo secondo ovviamente avete riciclato spudoratamente la 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 allora con Marte io ho detto Marte tu mi dici erano tutti molto freddi biglietti d'auguri vero però se tu non mi dai quello che vuoi cioè se tu mi dici voglio un biglietto d'auguri che vada bene per tutto è ovvio che devi togliere qualsiasi tipo di comunicazione quindi e allora ho detto va bene allora facciamo che ci concentriamo sul biglietto di Natale allora voi dovete cercare di sviluppare una cosa che appunto abbia un po' l'appire del biglietto di Natale senza fare cose cioè dovete comunque trovare il modo di fare una cosa che c'entra qualcosa con la vostra immagine coordinata ok o due facce che si guardano a fare un albero di Natale per esempio per esempio un'idea ok potrebbe essere un'idea cioè dico facciamo facciamo che una serie di biglietti di Natale in cui c'è sempre l'immagine ambigua più illustrativa non c'è bisogno che facciate il marchio che diventa una cosa più illustrativa e si trova in qualche modo di coordinarlo con tutto il resto potrebbe essere un'idea va bene oppure sfrutto il concetto delle citazioni che avete fatto già con le spille ok il pattern qui si sfrutta bene perché fa molto natalizio magari si può accettare di cambiare un po' col colore in quel caso lì perché magari vediamo più sul Natale va bene rosso e verde non lo so o magari una minchiata non va bene non lo so capito certo è che magari fare un pattern nero per Natale fosse un po' impegnativo ok quindi potete valutare un paio di cose di conseguenza vedete io la grande sorpresa finale la devo avere qui va bene ovviamente voi avete tutto il tema avete tutto il tema del no dai ma va no non la faccio ah no non la faccio allora dovete giustificarmi come potete mettere i bustini a tutte le spillette dobbiamo fare la scatolina busta di carta busta di carta che pigra di merda che sei si può fare l'ho chiesto in stagio l'ho chiesto in stagio se si può fare allora se tu mi porti no non le facciamo non le produciamo ti racconto una storia quando ero in università abbiamo fatto un concorso nazionale no non nazionale internazionale perché si chiama D.E.A.D. design e pubblicità che è un concorso che si fa a Londra doveva mandare dei lavori una mia compagna si era si era messa in testa lei aveva scelto la sezione design il committente era la Michelin si era messa in testa di inventarsi un kit per farsi la benzina in casa per chi rimaneva a piedi con la macchina quindi c'era un piccolo kit in cui tu mescolando l'acqua con una serie di rimetti ti facevi il carburante figa l'idea però il docente ha impuntato i piedi e diceva però fino a quando tu non mi dimostri che chimicamente è possibile farlo io questa idea non te la faccio andare avanti così è questo tu mi devi dimostrare che per stamparla per poter fare solo con le bustine tu lo puoi fare tranquillamente capito? ma già dovrei solo fare una scatola buona dovrei solo fare una scatola secondo me è più vi siete affossati dicendovi che è troppo lungo da fare in realtà se vi mettete un attimo lì con la testa la scatolina con il toolkit la fate in pochissimo tempo basta perdersi un attimo la testa per capire come potreste fare magari provo a sentirmi anche con Moreschini per capire come meglio potete Moreschini che pure in stas devo fare i suoi lavori ma basta vi devo fare le pistelle ieri ho fatto una pistella con il foglio oro pure si chiama karma il foglio oro che bello il foglio oro che bello il foglio oro allora qui comunque la sportina è forse la cosa che graficamente vi è venuta meglio perché vi è venuta meglio perché c'è una regola la regola era quella su cui mi era impuntato cioè quando fate il motivo seguite sempre la regola dei dritto 45 verticale dritto 45 verticale e seguendola avete ottenuto questa grafica molto elegante potremmo anche dire ok non vi montate la testa ma è abbastanza elegante nota che vi faccio attenzione cioè comunque un oggetto di comunicazione quindi almeno il sito da qualche parte a livello di posizione quindi se il sito per esempio è dietro dovete duplicare la sportina e fare in modo che per esempio il complessivo si è girato poi ricordate che questo vai una sportina più piccola una sportina enorme per una spilletta quadrata di 3 cm ok va bene l'unica cosa lì è un problema tecnico che abbiamo occhio che io cioè questa sportina qui è un template che abbiamo se la vai a rimpicciolire troppo occhio a tenere d'occhio la dimensione della maniglia che non diventino troppo piccola sai che ho le caramelline per la go che carina ho le caramelline e comunque dicevo se ci mettete degli elementi che si differenziano dietro trovate duplicata la sportina e mettetela anche in una posizione girata in maniera tale che io riesco a vedere anche il dietro ricordatevi che queste scene qua sono una parte emozionale questo è il caramellino per la golazione quelle russe quelle russe cosa sono una base di vodka no ma che sono quelle quelle miele grasso d'orso dai chi no pare che in Russia mangiano la bistecca d'orso ma chi è mi ha fatto le flacche glielo dati se lo fate dai grazie ma che buonina allora dicevo ricordatevi che questa qui è una parte emozionale non fate il franco bollino cioè questo è paginato di merda perché c'è questa cosa questo franco mollo pezzato lì cioè la scena in questo caso le dico fate che c'è tutto lo spot che occupa tutta la pagina come avevo fatto in una mia presentazione se facessimo un video con una gif quello per la presentazione ricordate che questo va stampato ricordatevi come succederà poi ci sta quello che hai detto lo faremo ma lo faremo per la realtà virtuale ok ricordate questa qui è la roba da stampare ok cioè lì è la Marte che sta sfogliando il tuo lavoro ok ricordate che è una parte però comunque voglio fare una visuale tipo gente esatto e sfruttate bene lo spazio ok in questo caso ci sta che occupi tutta la pagina ok deve sembrare tipo una scena se guardate nell'esempio di presentazione che vi avevo fatto andate ragazze sì ciao ciao insomma sfruttate bene lo spazio uno deve arrivare qua e dire oh che figo che bello me lo guardo bene ok oppure se preferite impaginato così però con più inquadrature e queste più inquadrature vanno impaginate bene anche stessa roba qua le dimensioni sono giuste il bicchiere è da rifare perché è il mio non è il tuo no poi la luce divina dice su lì così nei bicchieri scusami allora anche qui ricordatevi che è sempre roba di comunicazione io cercherei di tenere il pattern dritto al di là di al di là di quello poi con le stesse dimensioni sfruttate la parte cioè questa roba qui la fissate tranquilli questo va bene però deve tenere quella regola che vi ho detto il marchio questo qui va bene per l'insegna ma la tenete con la versione originale questo lo potete fare tranquillamente anche qui quindi prendete come riferimento la sportina dovete riportarla qua ok il bicchiere al di là che è il marchietto così no dai trovate il modo di di impostare in un'altra maniera ma se tipo io prendo una faccia no la rifletto e metto l'altra faccia dall'altra parte perché se tipo ti guardi il bicchiere vuoto tipo quelli di tiger dici quello che si vede il come si chiama lo squalo dall'altra parte se c'è la cornicetta si vede lo squalo tipo allora questa è la nostra bottiglia da qua c'è una faccia solo e dall'altra parte ce n'è una quindi tu guardandola dritta così si vede intera carina l'idea ricordati che alla fine è un bicchiere di plastica per una bibita allora tu cazzo te lo metto tu cazzo te lo metto mamma mia che camionista che sei te lo metto dimmi ma allora secondo me secondo me dovete anche qui cercare di sfruttare un attimo il pattern ma forse il pattern qua ne potete fare a meno perché secondo me uno dovete trovare in modo che ci sia sempre il marchio con il logotipo non solo il marchietto così per banca essere che sia semplicemente qua poi ci va a bere si vabbè la bocca arriva qua anche fatto che ci sono tutte le proporzioni sminchiate vabbè il bicchiere non va bene ok questa roba qua e ricordatevi che questo non l'avete messo per ogni pack ci vuole la sua grafica estesa con la bustella che è niente cioè c'è la sportina ci vuole la sua bustella aperta si ma c'è ma che me ne frega lei perché è un documento questo nella presentazione non c'è ma nel documento stampato ci deve essere un manuale questo devo farne due allora basta che quando metti la grafica metti il file e il file che è molto semplicemente tu hai la tua slide perché è così sto facendoti vedere guarda questa è la grafica che ho pensato per la sportina e adesso ti faccio vedere come viene fuori ok questa è la parte più tecnica questa è la parte più emozionale penso di avervi detto più o meno tutto io ho in centro mangiare non sa che io vado proprio a mangiare andate a mangiare andate a mangiare e le prossime volte che venite cominciate a mettere mi raccomando oh io il 29 allora sabato prossimo spegne la registrazione intanto poi mi sentono i cazzini è qua eccola bra see